ciao lettrici e lettori bentornati su miss fiction books io sono tiffany e soprattutto bentornati nei fantasy talks dopo un po di tempo che latitava questa rubrica è tornata perché dobbiamo completare la seconda parte dedicata all'epic e high fantasy oggi inauguriamo anche il nuovo format dei fantasy talks di solito a me piace comparire in video ma mi rendo conto che è il motivo per cui io sto rimandando e rimandando i fantasy talks perché come avete notato sono dei video leggermente lunghi e quindi onde evitare di stancarmi ulteriormente la modalità podcast è veramente molto utile quindi spero abbiate pazienza e comunque seguirete con interesse la rubrica perché insomma abbiamo tantissime cose di cui parlare ci eravamo lasciati nell'ultimo fantasy talk dopo aver ripassato tutti insieme che cosa è il genere epic e high fantasy come distinguerlo rispetto agli altri e facendo un elenco di quelle che sono le opere fondanti di ispirazione del genere ma soprattutto andando anche a toccare dei veri e propri capisaldi e oggi continuiamo perché arriviamo un po più avanti ci eravamo lasciati negli anni 80 e ora facciamo un balzo negli anni 90 per vedere tutte quelle serie che hanno preso gli elementi epic e high fantasy per poi riutilizzarle e reinventarle dando una vera e propria nuova linfa vitale al genere il genere che forse come già vi accennavo nella puntata precedente è quello più riconoscibile e più conosciuto del fantasy iniziamo oggi parlando di un'opera che esce nel 1990 ed è una delle più amate ed apprezzate nel panorama epic e high si tratta infatti dell'occhio del mondo il primo libro della serie della ruota del tempo di robert jordan la serie si compone di 14 romanzi usciti nell'arco di 20 anni e caratterizzati da una trama estremamente complessa descrivere la trama di tutti questi romanzi così complessi è impossibile in breve tempo ma cerchiamo di farlo andando per gradi e partiamo solo dall'inizio in modo che poi non ci siano spoiler per nessuno nella ruota del tempo in principio il creatore dal potere limitato decise di dare vita proprio alla ruota del tempo caratterizzato dalla presenza di sette raggi ogni raggio di ruota rappresenta un'epoca ed è formata da dei fili costituite dalle vite di tutti gli uomini la ruota viene fatta girare dall'unico potere o dalla vera fonte la forza motrice dell'universo l'unico potere si divide in due metà una maschile e una femminile siding e sider che operano in opposizione una contro l'altra e all'unisono per far girare la ruota prima di procedere alla creazione della ruota il creatore ha impregionato shaitan detto anche il tenebroso un'entità tanto potente quanto malvagia in grado di rappresentare un pericolo più che importante per la ruota e per il genere umano i romanzi di robert jordan sono incentrati in particolare su una reincarnazione del drago randall thor 3000 anni sono passati dall'ultima guerra tra shaitan e la luce in quella che viene definita all'epoca leggendaria durante la quale l'ultimo drago riparò e chiuse il varco aperto nella prigione del tenebroso con l'aiuto di altri incanalatori maschi ma sfortunatamente il tenebroso prima di essere completamente imprigionato riuscì con un contrattacco a contaminare saidin la metà maschile dell'unico potere una contaminazione che conduce sempre alla pazzia di ogni uomo che lo incanala a causa della natura ciclica della ruota del tempo non ci può essere una vittoria definitiva per le forze della luce o delle tenebre questa guerra infatti è stata combattuta innumerevoli volte dal tempo della creazione il drago sconfiggerà shaitan e lo sigillerà di nuovo fuori dal mondo finché la ruota non girerà per millenni richiedendo la sua rinascita per contrastare una rinnovata minaccia perciò l'unica vera possibilità di vittoria che resta a shaitan è quella di riuscire a rompere il ciclo della ruota provocando l'annichilimento dell'universo la trama della ruota del tempo ruota proprio attorno a questa dicotomia alla lotta tra luce e ombra che per le stesse caratteristiche del mondo messo in piedi dal creatore non può mai trovare una risoluzione in quanto la ruota gira in maniera ciclica jordan costituisce sulla carta quella che è una vera e propria cosmogonia complessissima robusta e sempre in grado di espandersi la ruota del tempo è una sorta di bestia curiosa il weeklies publisher ha definito questa serie preziosa per il ritmo frenetico la bellezza lirica e la portata sorprendente della serie jordan aveva un talento considerevole perché la sua scrittura è fortemente impregnata di immagini e lirismo che rendono le sue storie epiche una gioia da leggere questo aspetto di una scrittura ponderata che impiega moltissimo a descrivere con minuzze ogni aspetto lo lega moltissimo a tolkien anche se forse è uno degli aspetti meno di successo tra i lettori che spesso lo tacciano come prolisso e io confermo questa opinione la ruota del tempo non è stato un cammino facile da un lato è una delle saghe più lunghe del fantasy moderno segnata in maniera indelebile dalla scomparsa del suo creatore robert jordan infatti è morto nel 2007 a 59 anni a poco più di un anno dalla diagnosi di una malattia degenerativa durante la stesura dell'ultimo romanzo della serie che è stato completato da brandon sanderson su espressa richiesta della moglie di jordan ecco e poi qua intervengo io in modo che un altro avviso se volete leggere delle donne scritte bene dei personaggi femminili scritti bene non è questa la saga giusta una serie che non è immune dai problemi dei suoi romanzi insomma jordan perde a un certo punto completamente il controllo della trama attorno al sesto libro e la serie è come se si spegnesse lentamente senza controllo per altri 5 o 6 libri sì ci sono troppi personaggi di cui tenere traccia ma resta il fatto che jordan ha creato un mondo enorme con una trama enorme e una storia indimenticabile ci sono a mio parere scrittori migliori e anche un po più moderni nella loro scrittura soprattutto nel fantasy contemporaneo ci sono serie fantasy epiche forse più intelligenti e con personaggi ritratti più realisticamente ci sono serie che rinnovano molto di più il genere però la ruota del tempo al merito di aver cambiato il volto dell'epic nel bene e nel male dagli anni 90 in poi è in lavorazione una serie tv legata alla ruota del tempo quindi insomma io ve lo dico così potete segnarvelo nel 1994 invece la spada della verità di terry goodkind apre la sua nuova saga la serie è ambientata in un mondo diviso in due grandi regioni il nuovo mondo e il vecchio mondo il nuovo mondo è composto da tre terre con i territori occidentali a ovest da ara a est e le terre centrali al centro delle due da ara è governata da un membro dotato di magia della famiglia raal mentre il benessere delle terre centrali è garantito da un consiglio di rappresentanti guidato dalla madre depositaria le depositarie sono un gruppo di donne che ha ciascuno un potere magico diverso permettendo loro di adempiere al più grande scopo trovare la verità i terreni occidentali una terra senza magia sono governati anche da un consiglio di rappresentanti richard cypher è il nostro protagonista una giovane guida dei boschi che viene coinvolta da una misteriosa donna calan amnel nella ricerca di un grande mago di cui si sono da tempo perse le tracce il mago zed grande amico di richard che successivamente si rivelerà essere anche suo nonno nel corso della serie richard scopre di essere l'unico mago guerriero della sua epoca e si impegna nella lotta contro i nemici umani e ultraterreni che vogliono dominare e distruggere l'intera umanità a loro si aggiunge caramason una mord sith che ha capito di aver sbagliato nel seguire il malvagio darken ral e si guadagna la fiducia di richard callan e zed diventando loro amica ognuno dei primi 11 libri presenta una diversa regola del mago che richard deve imparare a seguire più che una regola sono indicazioni morali simili ad aforismi che fungono da un codice morale che spesso si rivela indispensabile per la risoluzione dei problemi affrontati dai personaggi l'undicesimo volume della saga scontro finale chiude il primo ciclo narrativo l'aspetto fantasy del libro è di impianto tradizionale infatti assistiamo ad un ragazzo di campagna che diventa un eroe a sua insaputa il suo destino è già scritto e farà grandi cose però a differenza di talking o di jordan good kind ha uno stile decisamente più digeribile imperfetto sicuramente ma riesce a illustrare il mondo nel quale si svolge con grande agilità senza risultare mai dettagliatissimo per il gusto fine a se stesso si tratta di una serie dove al centro c'è il libero arbitrio e trovare il motivo per guidarti nelle scelte della vita che si scontra invece con le persone che cercheranno di derubarti delle tue facoltà di scelta al pensiero critico viene opposto l'indottrinamento l'impossibilità di ragionamento di accettare invece una visione imposta dall'alto come attraverso un velo quel velo può coincidere con l'adorare una figura come nei regimi totalitari o un dio o un'entità e come questo venga presentato come una causa più importante della vita stessa o del libero arbitrio che può schiacciare chiunque si opponga da un lato rappresenta il potere totalitario che si oppone alla democrazia ma non solo ha molto a che fare con la lotta con i diritti umani che si scontrano contro chi in nome della libertà personale vuole schiacciare limitare gli altri calpestando o impedendo loro di avere gli stessi diritti o persino la sempiterna la otta tra scienza e religione un punto molto positivo della serie a mio parere è che abbiamo un personaggio principale che non è classicamente tormentato non è un personaggio afflitto da grandi questioni morali e lotta interne ma non è neanche un personaggio che fa qualcosa di buono totalmente per caso senza una motivazione allo stesso modo l'antagonista non è un malo scuro ignoto e terribile è un personaggio che ha un obiettivo che è disposto a tutto per ottenerlo in maniera molto tangibile comprensibile nell'epic fantasy tutto ciò è abbastanza originale mentre sono aspetti più popolari in altri generi ecco forse good kind non è il migliore nello scrivere i personaggi perfettamente stratificati e complessi ma fino al sesto libro la serie è davvero estremamente piacevole nel 1995 esce la trilogia dei lunga vista di robin hop e finalmente rivediamo una donna nell'elenco perché ricordo che questo genere ha una componente maschile leggermente accennata e infatti uno dei problemi che ho io nei confronti dell'epic è che davvero sembra il festival del polipo e della salsiccia spadoni contro spadoni troppe poche donne sia come autrici che come personaggi e spesso sono anche scritte malissimo comunque torniamo ai lunga vista un'umanità di servi e signori abita un mondo pervaso da una magia sottile e inquietante fra intrighi di corte e minacce di misteriosi pirati in grado di manipolare le loro vittime privandole di ogni forma di raziocinio e di sentimento tra questi pericoli si aggira il giovane Fitz un bastardo di stirpe reale figlio illegittimo dell'eree dal trono dei sei ducati il principe che all'età di sei anni viene portato e lasciato al palazzo reale dal nonno stanco di mantenere un nipote illegittimo e testimonianza della perduta virtù della figlia Fitz viene affidato alle cure di Boric un uomo di fiducia e stagliere del principe il ragazzo non conoscerà mai suo padre che va gli è infatti abdica in favore del fratello minore veritas abbandonando la corte a causa della sterilità della moglie dello scandalo del figlio illegittimo il re contrario all'esilio del suo erede accoglie Fitz e fa in modo che venga addestrato alla sottile arte dell'assassinio dall'avvelenatore di corte l'enigmatico Umbra comincia così una vita comincia così la vita e la crescita del ragazzo che si divide tra il lavoro alle stalle lo studio comune di tutti quell'oro che sono di stirpe reale e l'addestramento come assassino l'apprendista assassino racconta di un universo drammatico in cui la lotta fra il bene e il male non è mai una prevedibile guerra tra opposti inconciliabili ma scontro umano tra fato e necessità tra libera scelta e destino tra personaggi la cui esistenza è sempre inevitabilmente imprevedibile la serie pur non presentando i classici topoi dell'epiche high fantasy forse apparentemente più vicine all'eroic e allo sword and sorcery può essere considerato epico nella sua portata alcune minacce incombono sul regno per distruggerlo e un uomo cerca di fare qualcosa al riguardo tuttavia mentre lo scopo è etico nel senso che la minaccia sta colpendo i sei ducati stanno per scatenarsi eventi che potrebbero cambiare il mondo è soprattutto la storia personale del giovane coinvolto negli eventi infatti un altro elemento importante della storia è sicuramente il cammino del nostro eroe anche se è un eroe diciamo fuori dalle righe nel 1999 invece guardians of the moon ovvero i giardini della luna sono il primo romanzo dei malazzan caduti di steven erickson una serie amatissima principalmente composta da dieci volumi la trama della saga non procede in maniera lineare innanzitutto senza troppi fronzoli il lettore si trova catapultato dentro la narrazione senza linee guida ma come se si fosse risvegliato da un sonnellino un volume dopo l'altro le vicende non vengono mai svelate in ordine le vicende del primo romanzo sono riprese nel terzo quelle del secondo sono continuate nel quarto e così via ci sono tre filoni principali da seguire l'impero dei malazzan nel corso della sua vasta espansione intercontinentale si è opposto alla resistenza sotto forma di moonspawn una sorta di fortezza galleggiante abitata da un'antica razza di maghi guerrieri alleati con le città libere contro l'impero le armate di malazzan si trovano a combattere contro un grande numero di cittastato per il dominio del continente l'impero è però di base tormentato da numerose lotte intestine poiché alcune truppe imperiali sono più fedeli ai loro comandanti che all'imperatrice il malcontento della popolazione palpabile soprattutto a causa dell'atteggiamento dispottico dell'imperatrice la zen che con l'aiuto del suo temibile esercito di mercenari sta mettendo a ferro e fuoco le città che ancora le resistono durujistan sembra però non volerne sapere di capitolare e la sua estenuante resistenza rappresenta il punto di partenza per uno sconvolgimento senza precedenti nell'impero di malazzan le città capitolano ma la resistenza continua e sorgono ogni giorno nuovi movimenti di ribellione all'impero tra cui il vortice di vento che causerà l'inizio di una serie di sanguinosi e terribili conflitti e in qualche modo gli dei sono coinvolti anche se quali potrebbero essere le loro motivazioni divine non è affatto chiaro questa serie è anche curiosa per la sua genesi infatti erickson e ian cameron esselmont creano questo mondo con l'intenzione di utilizzarlo come ambientazione per un gioco di ruolo i primi passi della saga furono poi seguiti dalla redazione di una sceneggiatura cinematografica che però non ebbe assolutamente fortuna erickson la trasforma poi in un libro che vide la luce però solo otto anni dopo essere stato scritto non è una serie semplice non è una lettura immediata e scorrevole è il festival del polipe della salsiccia ma è una saga estremamente appassionante drammatica e nemmeno così cuba come la trama fa immaginare infatti è piena di momenti ironici anche se il tenore generale rimane chiaramente molto serio il libro dei malazzancaduti è sì una storia di guerra ma sarebbe limitante ricondurla solo a questo perché troviamo la scoperta del passato di un mondo delle ragioni che hanno spinto i popoli al conflitto al perché certe razze hanno agito in un certo modo c'è un senso molto antropologico e sociologico del conflitto ci sono gli dèi nuovi ed antichi che con il loro agire non solo per ottenere potere ma anche per preservare il mondo che è stato costituito intervengono continuamente insomma è una saga che sicuramente non è per tutti ma è molto amata dagli appassionati del genere nel 2006 esce una serie molto popolare di un autore che è diventato il più amato forse di tutta la generazione di scrittori di high e epic fantasy infatti esce miss born di brandon sanderson la storia inizia circa mille anni dopo l'ascensione il momento in cui il sole divenne rosso e iniziarono delle eterne piogge di cenere condannando la terra ad essere improduttiva e inutilizzabile è in quel giorno che un uomo divenne il lord reggente un individuo simile a una divinità che riuscì a anificare il mondo in un'unica nazione dando origine a un regno eterno chiamato ultimo impero coloro che hanno deciso di accettare seguire le regole del lord reggente sono stati premiati con un posto nella nascente nobiltà mentre chi sia opposto è stato condannato a una vita di schiavitù estesa anche alla loro discendenza dando origine alla casta degli ska siamo in un mondo di cenere avvolto dalle nebbie diviso in dominazioni dove sono i nobili sotto il pugno di ferro del lord reggente a comandare anzi proprio a spadroneggiare e la maggior parte delle persone è succube del loro potere tanti sono gli schiavi costretti a vivere in condizioni miserevoli sfruttati e percossi senza alcuna prospettiva per il futuro se non quello di lavorare per sempre e di morire il mondo è stato sull'orlo della fine ma in qualche modo è stato salvato solo che quello che doveva essere l'eroe è diventato il tiranno del nuovo mondo una giovane ladra ska bin un'orfana abbandonata dal fratello in mano a un piccolo criminale che decide di portarla a uno scambio della malavita durante lo scambio quando tutto sta per saltare l'intervento di bin salva la situazione ma misteriosamente fa arrivare sul luogo un inquisitore membro della temuta forza d'ordine del lord reggente intenzionato ad arrestare vin a salvare la ragazza interviene un individuo misterioso che riesce a fermare l'inquisizione a portare vin in salvo sia dalla legge che dal suo guzzino proponendole di entrare nella sua banda di ladri e di scoprire la verità sulla sua misteriosa fortuna in questo modo il lettore scopre l'elemento fantasy del mondo di sanderson la lomanzia questa particolare capacità consente ai suoi possessori chiamati misting di poter sviluppare dei particolari poteri previa assunzione di alcune leghe metalliche sciolte in un liquido ogni allomante è reattiva una particolare lega e questo rende possibile usare il potere relativo proprio a questi metalli esistono però degli individui ancora più dotati chiamati mispor che invece possono usare tutte le leghe questo dono è appannaggio del puro sangue nobiliare e del lord reggente ma si scopre che questo potere scorre nelle vene di vin e del suo salvatore kelsior la giovane oltre a scoprire la verità sui suoi poteri dovrà accettare che kelsior da molti considerato un eroe poiché è l'unico a essere fuggito dai terribili fossi di asin e la sua banda di misting intendono aiutare i ribelli a rovesciare l'ultimo impero durante le sue avventure vin scoprirà che esiste anche una seconda forma di allomanzia la feruchemia che conferisce la capacità di immagazzinare certi attributi fisici in pezzi di metallo usandoli come depositi brandon sanderson compie un vero e proprio rovesciamento del genere ponendosi una semplice domanda che cosa succede quando l'eroe diventa il signore oscuro e che tipo di mondo risulta quando questo signore oscuro al comando non esistono più solo gli incantesimi che abbiamo sempre conosciuto così come le razze non umane non sono più solo elfi e nani ma nuove idee riscono a dare una varietà ad un genere letterario troppo fissato sulle sue origini e che inizia ad avere bisogno di nuove frontiere in cui spingersi sanderson crea un sistema di poteri fuori dal comune dove si attinge forza dai metalli è questa la novità che immette nell'ultimo impero perché la storia che narra è qualcosa che esiste da sempre una tirannia che schiaccia le persone le fa vivere male dove tutto le è concesso e gli altri non hanno assolutamente diritti la popolazione rassegnata ormai abituata alla sottomissione si vive in un mondo grigio senza speranza almeno fino a quando non compare un uomo che dice che c'è un altro modo di vivere e che ci si deve ribellare alla tirannia sanderson dei suoi mondi reinventa ogni aspetto dalla flora alla fauna al sistema magico insomma dimostra un'immaginazione impressionante sanderson ha anche decretato una serie di leggi che lui ha enunciato in un modo un po' saccente anche seccante durante un'intervista ma sono le sue regole per l'impostazione dei romanzi che scrive e che suggerisce ovviamente di adottare agli altri la prima legge cita la capacità dell'autore di risolvere in modo soddisfacenti conflitti fra i personaggi tramite la magia è direttamente proporzionale al modo in cui il lettore è messo in grado di comprendere la seconda legge stabilisce che i limiti devono essere superiori ai poteri e la terza legge invece invita ad espandere ciò che si è già costruito prima di aggiungere qualcosa di nuovo nel 2010 sanderson pubblica anche le cronache della folgor luce il romanzo infatti segue le vicende di tre principali punti di vista caladin dalinar e shallan introducendone però anche altri nel corso dei capitoli e durante il prologo agli interludi sparsi quei là un'altra opera epica pianificata su dieci libri che alternano sia le vicende principali con una serie di storie brevi veri e propri interludi e lo scopo di espandere il world building e creare numerosi aneddoti sul mondo nel 2006 invece esce la prima legge di joe abercrombie sui principali regni del mondo circolare tira da tempo area di guerra o meglio la pace è solo un intervallo fra annosi conflitti esterni ed interni l'unione che comprende la grande isola di midderland con la capitale adua e territorio oltremare tra cui langland somiglia molto a un'europa ricca decadente e piena di intrighi e corruzione l'impero gurkish con caratteristiche medio orientali è dominato da un ferocissimo tiranno le terre del nord selvagge e abitate da clan cronicamente impegnati a massacrarsi a vicenda sono riunite sotto un nuovo capo chiamire espansionistiche nei confronti del ricco sud logen novedita detto il sanguinario è un feroce uomo del nord considerato morto dai vecchi compagni sandan glocta e gezzal dan lutar appartengono entrambi all'unione il richiamo delle spade racconta di una compagnia formata da un mago misterioso un barbaro feroce un cavaliere di nobili natali una specie di gnomo cattivo una donna guerriero eccetera impegnati in un quest alla ricerca di un artefatto potentissimo che sconfiggerà il signore del male tutto questo ricorda qualcosa ma nel corso della serie aber crombie riesce ad allontanarsi di misura dal cannone tolkeniano basta guardare la serie da sola senza confrontarla con il genere più grande nel suo insieme è una serie fantasy divertente appassionante con qualche momento di azione prepotente personaggi completamente grigi che sono in qualche modo un paradosso un killer barbaro che odia uccidere un torturatore che in realtà è un uomo gentile la scrittura è affilata come un coltello pienamente nello spirito del suo titolo come per martin la crudezza degli scenari e la sostanziale scomparsa del cliché bene assoluto contro male assoluto è una componente forte di aber crombie i protagonisti delle sue storie sono nella quasi totalità persone normali piene di difetti che compiono azioni eroiche in modo spesso incidentale e non certo per il bene altrui o per redimersi il tema della vendetta è il motore centrale che spinge i protagonisti a combattere e lottare fino alle estreme conseguenze qualsiasi arma scatena l'aggressività presente di ognuno di noi e il conseguente desiderio di dominare sull'altro dominati da magia forza brutta intelligenza o potere tutti i personaggi e tutto il mondo di aber crombie sono davvero una rappresentazione molto rinnovata di questo genere e arriviamo praticamente in fondo perché chiudiamo oggi la puntata sull'epic fantasy con il nome del vento di patrick rotfuss che esce nel 2007 finalmente siamo arrivati alla fine non so come sono sopravvissuta anche a questo video una serie che non è stata completata peraltro quella di rotfuss e chissà se lo sarà mai forse più o meno in contemporanea con martin ma che sicuramente ha avuto un impatto clamoroso sul genere high ed epic questo libro narra la prima parte delle avventure di kvote un famoso uomo conosciuto per le sue abilità di arcanista avventuriero e musicista e per il suo eroico passato raccontato come una vera e propria autobiografia la struttura si svolge su due diversi livelli temporali la cornice dove si svolge la storia attuale e il racconto di kvote che illustra il suo passato sin da quando era bambino all'inizio del romanzo kvote ha terminato i suoi giorni avventurosi per vivere in incognito come oste ma quando appare lo storico cronista kvote accetta l'opportunità di fornire il resoconto definitivo della sua vita e delle sue azioni kvote nonostante lo scetticismo dello storico insiste perché la sua storia richiederà tre giorni per essere raccontata correttamente e quindi apre il primo giorno di the king killer chronicles ratfuss ama giocare con i cliché il protagonista di kvote è un eccellente gary stew è intelligentissimo riesce bene in tutto ciò che fa è bellissimo non solo sa fare tutto ma lo sa fare meglio di chiunque altro e non grazie a un particolare allenamento perché il talento sembra essere innato in lui è vero affronterà una serie di difficoltà e ogni sua scelta comporterà una serie di decisioni difficili però diciamo che è un personaggio anche molto arrogante supponente si discosta anche però da alcuni stereotipi e sia il personaggio che la sua opera si discostano anche da alcuni stereotipi innanzitutto rotfuss ha uno stile che cerca il lirismo ma che riesce al contempo a non risultare pedante e pretenzioso mai esageratamente autocompiacente sempre molto chiaro e diretto rotfuss si dimostra un autore intelligente soprattutto per numerosi inserimenti molto furbi nella serie il più importante di questi è il sistema magico del mondo che sembra consistere in una magia basata sulla matematica e sulla logica e sul nome e sull'intuizione e alla fine di questo percorso ci chiediamo come fa una storia come the name of the wind a essere un epic fantasy perché è una storia estremamente epica incentrata su un singolo eroe che è il nostro ocvote la grande storia della sua vita è vera o una finzione che ci viene data da un narratore inaffidabile noi non lo sappiamo ma la scala e le sue proporzioni sono decisamente molto ampie molto grandi il punto di forza di questo libro non è sicuramente nell'attualità della sua impostazione nella trama ma nel piacere di raccontare la storia stessa e finalmente siamo arrivati alla fine io non ci posso credere che ci siamo liberati dell'epic fantasy ragazzi insomma siamo arrivati un po in fondo ripercorso soprattutto in questa seconda metà alcune opere che io ho studiato per questa puntata perché non potevano mancare a chiusura del circolo che però non sono sicuramente come avrete forse immaginato tra le mie preferite detto ciò io spero di avervi dato qualche spunti sul genere anche in questa puntata e non vedo l'ora di passare alla prossima perché andiamo su un genere che è forse uno dei miei preferiti ma aspetto a dire le cose perché di solito mi porto sfiga da sola e fatemi sapere se questa modalità podcast risulta allo stesso modo convincente secondo voi fatemelo sapere spero di aver esplorato insieme a voi una serie di opere molto interessanti e di aver fatto chiarezza sul genere e calcolate che ovviamente negli ultimi decenni quindi dalla metà degli anni ottanti in poi i generi continuano a mescolarsi la puntata prevedeva l'inserimento inizialmente di almeno altre tre opere però sono tutte opere molto a cavallo tra diversi generi quindi le rivedremo in altre puntate parlo di Lies of Locke Lamora parlo di Game of Thrones cioè le cronache del ghiaccio del fuoco insomma un'altra serie di opere che possono essere importantissime anche a cavallo tra più genere quindi giusto per non soffermarci su queste le ripescheremo in altre puntate chiaramente fatemi sapere se voi avete letto qualcosa così sono curiosa fatemi sapere se insomma vi interessa esplorare questo genere avete capito che non è il mio preferito ma alla fine non è questo lo scopo dei fantasy talks e io insomma sono curiosa di sapere il vostro feedback e niente ragazzi io vi ringrazio moltissimo per aver trascorso un po di tempo insieme a me e per aver sopportato anche questa puntata direi che per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo fantasy talks o al prossimo video ciao